binocolo Barska nero gommato antiurto reclinabile regolabile tramite questa ghiera galleggiante in acqua le diozze si regolano qui lenti antiriflesso bulbi oculari reclinabili per chi porta gli occhiali o per guardare attraverso degli occhiali antipolvere custodia in cordura nera e tracolla in cordura da agganciare sugli appositi passanti compatto maneggevole robusto solido antiurto potente i a i